Tanto è stato fatto, tanto si deve ancora fare. Maglio Torquato, sindaco di Nocera Inferiore, ha tenuto a raccolta la sua maggioranza e lo ha fatto parlando delle sue idee per il rilancio della città. Sono trascorsi appena otto mesi dall'insediamento, ma prima due campagne elettorali entrambe vinte che avevano mostrato a Torquato le criticità del territorio. Sotto l'aspetto politico, il primo cittadino risponde a chi si è chiesto ultimamente il perché di alcune scelte. Insomma, molteplici le questioni affrontate di petto, anche se di nodi da sciogliere ce ne sono ancora. E come? Indubbiamente la questione dei rifiuti che è stata fino ad oggi portata avanti e attende l'espletamento del bando ormai tra pochi giorni, continua ad essere una delle questioni nodali, ma non solo. C'è il problema della riorganizzazione interna del Comune che abbiamo avviato con una riassegnazione delle funzioni. Abbiamo tagliato, lo ricorderei, i dirigenti esterni, abbiamo confermato in un'attività di riorganizzazione progressiva quelli interni del Comune senza esercitare patrocini di parte politici. Faremo una rotazione delle funzioni interne, soprattutto per quanto riguarda i settori tecnici. Pensiamo ad una riorganizzazione del corpo della polizia locale, in vista anche dell'individuazione eventuale laddove necessaria di un nuovo capo della polizia locale. Pensiamo ad una riorganizzazione delle finanze. Io dico che anche in termini di finanze abbiamo buttato giù una debitoria, abbiamo iniziato a buttare giù, non l'abbiamo ancora buttata giù, una debitoria rilevante anche con tanti piccoli segni. Penso alla questione dell'asilo, anche lì c'è qualche avviso, dico della CGL di contestazione, però dobbiamo ricordare le cose come stanno. Noi siamo entrati in quella vicenda battendo i costi di 80 mila euro l'anno rispetto al precedente rapporto convenzionale con la società interinale, affidandolo ad una cooperativa. Abbiamo mantenuto intatti i livelli di occupazione, ovviamente con una lieve riduzione delle retribuzioni. Non siamo entrati a fare il cosiddetto showdown del personale come si è abituato a fare in una vecchia politica, cioè se mandano fuori quelli che ci sono e se ne prendono altri di propri. Abbiamo confermato i livelli occupazionali, abbiamo un'idea istituzionale della città. C'è uno spirito civico, in senso per una politica civica, cioè una politica cittadina, che tenga anche conto del respiro politico delle componenti, ma che non rappresenti però un pregiudizio nei confronti di nessuno. All'interno della mia amministrazione vi sono espressioni anche politicamente di riferimento chiare, di forza e di sinistra, come la stessa area di riferimento del Partito Democratico, i componenti del centrodestra. La mia resta un'impostazione amministrativa e se di politica si deve parlare deve essere una politica amministrativa, non una politica per la politica, soprattutto in tempi di divisione e di frazionismi, quali stiamo vivendo purtroppo sullo scenario nazionale.